Un simpatico sipparietto tra Maurizio Gerini e Van Bevere di Lota Yamaha andiamo a mangiare qualcosa insieme Buon saluto ai garzoni dell'Italia Ehi amico! Qui siamo con le più grandi della totalità Ehi, non sono più grandi L'amico Gerini Allora, questo è il numero uno Van Bevere qui dal divacco di Pisco Catering che adesso si sta riempendo di gente Andiamo a mangiare un boccone Poi vado un attimo a fare due cose ufficiali E poi via